Il compleanno è avvenuto il 22 marzo del 2012 Lorenzo Grazi assieme alla propria famiglia aveva rilevato il pacchetto di maggioranza della San Giovanni Valdarno Calcio prendendosi anche il ruolo di massimo dirigente. È una ricorrenza importante dunque passata tra qualche soddisfazione come la vittoria dei pre-off nazionali per l'accesso alla D e la disputa mercoledì prossimo del quarto rifinale di Coppa Italia contro il Matelica. Quattro anni fa il rischio esistente quel giorno era che la squadra allenata all'ora da Fani non si presentasse peraltro neppure alla successiva trasferta di soci e già al poter pensare più al calcio giocato che ad eventuali problemi esterni al rettangolo verdi fa del periodo un buon ricordo per la tifoseria. Peraltro proprio tifosi hanno riempito di volantini nella città invitando gli sportivi allo stadio per il 30 di marzo. L'amministrazione comunale ha programmato l'intervento di sostituzione delle lampade non funzionanti e dei riflettori in modo che tutto sia terminato con abbondante vantaggio temporale rispetto alla disputa di quel match. L'impegno di spesa tra consumabili e affitto di mezzi per raggiungere tale altezza assomma a circa 4.000 euro.